Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Il conduttore Paolo Bonolis lancia il suo nuovo progetto letterario, la missiva appassionata parla chiaro Il mattatore Mediaset per Antonomasia Paolo Bonolis ha apposto la firma a molti format di successo, come ad esempio Ciao Darwin, Beato tra le donne e avanti un altro Il conduttore romano è ormai un'istituzione per i piani alti di Cologno Monzese, e rappresenta una garanzia di successo per ogni programma a lui affinato Sposato da molti anni con l'opinionista e imprenditrice Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha costruito con lei una solida famiglia Le loro vacanze stellari e lo stile di vita faraonico sono finiti spesso nell'occhio del ciclone, provocando rumors incontrollabili È la natura del loro rapporto, però, a destare maggiore curiosità, alcune recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli sembravano ventilare l'ipotesi di un'imminente separazione Nelle ultime ore la bionda opinionista del GFV ha compiuto un gesto inequivocabile, che metterebbe a tacere le voci di una crisi incombente Scopriamo cos'è successo. Alcune recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli avevano fatto pensare al peggio, l'opinionista aveva infatti dichiarato di essere in procinto di occupare da sola il suo nuovo appartamento, rompendo così la routine matrimoniale con Paolo Bonolis In merito aveva asserito, dormire in camere separate è un segno di civiltà. Comunque noi adesso andiamo oltre, sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele Silvia resta con lui. La coppia sta quindi cercando di far evolvere il loro rapporto, e ognuno dei coniugi dormirà separato dall'altro, in due differenti palazzi comunicanti tramite una doppia porta sul terrazzo Quanti avevano già aperto le dati del toto divorzio possono rinunciare alla scommessa A quanto pare, infatti, Sonia Bruganelli continua a fare un tifo spiegatato per Paolo, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo libro L'opera, in uscita ad ottobre ed edita da Rizzoli, reca il nome di Notte Fonda Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un racconto onirico e intimista in cui una coppia, reduce da un aperitivo, si ritrova ad analizzare luci e ombre della loro relazione I due si confesseranno l'un l'altro nel corso di una lunga notte, rivelando altarini, desideri proibiti e interrogandosi circa l'imponderabile, seguendo il ritmo lento delle ore insonni Sonia Bruganelli ha pubblicato un tweet pieno di stima e di ammirazione per il famoso marito, porgendogli una carezza virtuale dal suo account L'uomo più intelligente e ironico che io abbia mai conosciuto Ha esordito l'opinionista. Senza se e senza ma. L'uomo che ringrazierò per sempre e che per sempre sarà un punto di riferimento Punto la crisi sembra decisamente scongiurata, quanto meno, sappiamo per certo che i due sono ancora legati da reciproca fiducia e immutato affetto Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video